Presidente, quali sono le ultime novità emersi appunto dalla riunione di oggi? Abbiamo revisionato, come facciamo tutte le settimane, l'elenco dei comuni che hanno necessità di maggiori restrizioni. Alla luce del nuovo decreto legge, le restrizioni che entreranno in vigore a partire da martedì, perché come sapete sabato, domenica e lunedì, che è Pasqua e Pasquetta, ci sarà la zona rossa a livello nazionale. A partire da martedì i comuni che saranno soggetti a misure più restrittive verranno applicate le misure previste dal decreto legge, quindi la zona rossa prevista dal decreto Draghi. C'è la riapertura delle scuole, questo in virtù del decreto legge. Le scuole superiori che dovevano decidere quale percentuale di didattica a distanza hanno annunciato che faranno il 50% di didattica a distanza. I comuni che saranno soggetti a misure alla zona rossa, quindi chiamiamolo appunto a questo punto con il suo nome appropriato, saranno 17, alcuni dei quali sono quelli che già hanno avuto misure restrittive e non hanno superato la fase critica, altri che invece vi entrano a partire appunto da martedì. Per il resto l'Abruzzo complessivamente ha un quadro di miglioramento. L'incidenza che era già abbastanza bassa, è scesa sotto i 160, l'incidenza che si calcola ogni 100.000 abitanti settimanalmente. L'R con T è sceso ulteriormente, in questo momento è a 0,81, anche il limite massimo dell'indice di replicazione è sotto la soglia di 1. Migliora la situazione in Abruzzo, ribadisce il presidente della regione Marco Marsilio, al termine della riunione dell'unità di crisi in cui sono state analizzate le misure da adottare sul territorio. 17 comuni in zona rossa con le restrizioni riferite questa volta al decreto Draghi. Secondo il report diramato dall'assessorato alla sanità, i casi di oggi sono 424, di età compresa tra 8 mesi e 94 anni. Non pochi, ma nei giorni scorsi c'è stata una graduale discesa. Il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra regione. 6 i deceduti. Il bilancio sale dunque a 2.151, di età compresa tra 61 e 87 anni. 1 in provincia di Teramo, 4 in quella dell'Aquila e 1 in provincia di Pescara. Del totale odierno, un caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. 218 i guariti di oggi. Migliora, così come ha riferito anche il presidente Marsilio, la pressione ospedaliera. 577 pazienti, meno 29 rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia non intensiva. 68, meno 1 rispetto alla giornata di ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.695 sono in isolamento domiciliare. 5irsinле del EgSPRO 8 spanis 1 rispetto alla giornata di ausgegiria. 8�ת 15 rispetto a ieri, meno 35 rispetto a ieri, meno 35 rispetto a ieri.